Cominciamo Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Oggi sono qui ragazzi sul Food Draft Andiamo a fare per la prima volta il Draft Online Modulo decente Ti prego 4121352 41212 dico io Come capitano Ronaldo Hero Ti prego Ronaldo Hero Però abbiamo trovato lo stesso Ronaldo Quindi scelgo Ronaldo E oh cazzo 412122 Coglione Allora ragazzi questa è la squadra dobbiamo inserire l'allenatore Mettiamo Martinez Vabbè mettiamo Mourinho E ragazzi Ragazzi ecco qui la sua squadra Acquaresma E Ronaldo If Ok vengo l'anno Subito per Manzic Manzic per insegne Insieme a partire Kovacic Kovacic prima di uscire Vuole segnare Kovacic la mette Per Mario Palutelli Che parata che ha fatto il portiere Che parata che ha fatto il portiere regà Che parata che ha fatto Ok subito la sostituzione Poi vero Kovacic regà Ronaldo perché ho battuto con Ronaldo La palla in mezzo Ronaldo Ma Lorenzino insegna di testa Ma Mario insegna Ma insegna Insigna 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 il fondocampo Ma insegna Insigna In mezzo Per Mario No Mario Che cazzo ho fatto Ronaldo È angolo nostro Ti prego arbitro Grande arbitro Allora 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 Lorenzo insegna Dalla bandierina Ma Lorenzo In mezzo Per Super Mario Cazzo Insigne Lorenzino Lo insegno per Ronaldo Ronaldo Lo insegna Cristiano Ronaldo Per Balotelli Balotelli Si spostava alla La mette Insigne Per Ronaldo Cristiano Ronaldo La palla in stessa Manzic 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 Mario Manzic Mario Manzic Quello che già si voleva sostituire Quello che già si voleva sostituire La mette dentro Guardate qui che gollo Mario Manzic Mario Manzic Vai Lich Steiner Lick Lick fa partire Mario Balotelli Mario Balotelli Mario Balotelli Va al fondo campo Ti prego Mario Manzic Ragazzi Cambio un attimo Lorenzo insigne Con Cristiano Ronaldo Metto Cdc Lengolani E Al posto di me Lo metto Ibarbo E possiamo ricominciare Prego non lo far andare a segnare Attenzione a un barabatto Grande Valdez Un animale Valdez Contrasti regà A me lo contrasti Cento per cento Cento Fuori Palla fuori cazzo Palla fuori Dove lo fate andare a Douglas Costa Dove dove Oh No ti prego No 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 Ma che Ma Ma Che Regà ma che Qua Che cazzo è Che Come fai Come fai Come fai Abbiamo perso ragazzi Finita qui La prima partita Ed ultima partita Del draft E' finita così Se mi fanno trovare qualcosa Nei pacchetti Meglio così Meglio ancora 0 vittoria Ritiriamo il nostro piano Come cazzo ho fatto a perdere Pacchetto oro Pacchetto giocatore argento Pacchetto oro Allora sono Uno da 5 mila Uno e uno argento Beh se mi fa trovare Mastur Oppure mi fa trovare Muriel A me va bene Invece non mi ha fatto trovare Il cazzo Ora ragazzi Andiamo ad aprire quello lì Da 5 mila Ti prego ti prego ti prego Ora vi faccio vedere Anche l'animazione Tac tac Alex Telles Ma che cazzo Mi vetti Mi fai capire Alex Telles Tra due giorni Vi porterò Un metodo Su come Usare my guarigioni E su come Avere Praticamente Il codice importe I giocatori Potete Darli a vita Abbiamo trovato Raffiniam Poi Giacchini Trattative Più 2% Quindi Abbiamo Tengo A Mille crediti Poi Divisere Wolverham Un contratto Un contratto Un contratto Ragazzi Spero che vi vi è piaciuto Vi raccomando lasciate un like Un commento Se volete Iscrivetevi al canale Da se sei tutto Bella Che Hook Dovre Texto Av Bo Who Will etta Da se sei tutto strip rib� Region